salve a tutti ragazzi ancora una volta bentornati sul canale di riontrip e bentornati in un nuovo episodio di de infected siamo ancora qui ragazzi per continuare la nostra avventures su de infected un martello di pietra per riparare ma al momento non mi interessa ragazzi ho finito di fare come avevo detto alta scorsa i cosi qui questi cosi di di legno vediamo ci proteggono almeno un pochettino qui da qualche parte sono dei bastoni che merò bellamente lasciati indietro non ci danneggiano quando noi ci andiamo insomma spero che danneggiano quelli che arrivano gli ho messo un po così insomma tutto intorno alla base un po la cazzo si avete ragione però spero che loro non siano così intelligenti da passare in mezzo al bus un qualcosa parerà spero no va bene io ci ho provato e tanto non costano molte risorse a farle si fanno abbastanza in fretta in dieci minuti praticamente li ho fatti tutti perché richiedono una corda un tronco e quattro bastoni mi pare quindi bastoni non erano un problema eccolo là guarda lo stronzone aspettate vieni qua fammi vedere se funziona sta cosa vai dai funziona per funzionare funzionano va come si sta danneggiando sulle punte no ok non è proprio così intelligentissimo come no è proprio intelligente intelligente l'ho il coso qua ci metto un po a vabbè cosa cacchio raccogliamo qua ok perfetto hanno giunto anche vedete ragazzi la resistenza al sole quindi noi dobbiamo andare all'ombra perché il sole ci picchia sulle spalle allora ma avete anche detto qualcuno ehm credo la buona ehm non è del cv qua perché vedo che c'ha giramenti di testa stitizio ma non vabbè la dada sim mi pare ma abbia detto se si potevano fare i vestiti su questo cavolo di gioco allora secondo me a parte che mi servirebbe anche qui a mettere delle assi qua per per fare delle altre chest capisco che ragazzi mi eh dove li mettiamo sti cosi scusatemi ma io li butto sti bastoni ma che me frega via che si tanto ce ne sono talmente tanti in giro che volevo fare delle chest e in poche parole perché per mettere giù le robe allora anche se lo sapevo eh sì ho capito che stiamo male ma andiamo a vedere cosa ci manca vediamo un po se ve lo vedete sì perché mi sono spostato con la cam ehm no no metti la chest eh le mettiamo anche di qua va così intanto ce ne liberiamo mettiamo giù queste corde un attimo eh componenti elettronici io qua metterei tipo vetro materiali e cose varie insomma no perché altrimenti ah qua sono i due sassetti questa cosa è plastica questa roba che avevamo trovato se vi ricordate nella eh anche le piume qua poi un giorno farò un po' di di carboidrati mancano allora eh abbiamo anche fame sì ma per i carboidrati vero fatemi vedere ma credo che carboidrati e vitamine eh il problema è questo che dobbiamo cercare di tenere la salute di sto tizio alta è però eh non è proprio cioè io per esempio vedete trovo che cazzo tiri cretino io per esempio vedete trovo i piccioni il piccione non è esattamente no il gabbiano lì come cazzo si chiama non mi dà carne quello il fatto cioè mi dà tante robe per fare le frecce e fin qua voi avete ragione ma ma dove cacchio l'ha lanciata adesso sta freccia ne ho cinque maledizione è una pecora è una pecora ho capito ma non mi dà le vitamine e a me servono le vitamine capite che se io sciotto la pecora tipo no io gli tiro la freccia a parte che scappa mazza però eh la freccia cioè io raccoglierei anche sta pecora qua ma mi dà un sacco di carne e a me non serve cioè mi serve sì ok però comunque non non si campa solo di carne adesso noi ce la andiamo a cuocere comunque e però eh vorrei anche andare nelle grotte ma il problema è che nella grotta quella là se vi ricordate c'era una grotta o io me la magno tutta sta roba ma che me frega vediamo se si ripiglia un po' proteine si servono anche però i carboidrati porcaccia la miseria devo farmi prima dei vestiti qualche guarda che quella ce la sta passeggiando quella è in villeggiatura credo che vedi è venuto qua a fare il picnic questo stronzo vedi ma non ci ha notato noi siamo qua attenzione adesso ci ha visto e viene verso sparato ecco dai le punte servono ok perfetto molto bene ok allora vabbè lei stia lì lo lascio lì a punzecchierci un attimino e va bene è stato bello lo spostamento rapido eh su questi cosi oh che cazzo è successo mamma mia sono venuti in l'infarto perchè quando muoiono fanno sta proteine beh proteine è tutto a bomba è passato un mal di testa e no vedete perchè a lui gli servono cioè gli serve anche l'altra roba carboidrati vitamine questi cacchi cioè amico mio e dai un po' di quella roba lì però eh niente ragazzi devo fare assolutamente il vediamo se c'ho della verdurina qua ma non penso vediamo un po' eh no c'è dei semi del cavolo germoglio di cipolla ma non si può mangiare sto cipolla no no niente dai raga devo fare le coltivazioni lì come cacchio si chiamano lì le a parte che ci metteranno tipo un botto a crescere però mi servono vedete che cioè sono tipo essenziali come cosa allora costruzione posizionabili io non mi ricordo alimento alimento questa a sé e chiodi ancora con questi chiodi oh ma avete rotto le palle con questi chiodi dove li mettiamo sti cosi però noi raga e non credo che i vampi zombie qua no vabbè li metto un attimo qui comunque credo che tutte le robe in sto gioco si possano tipo spostare bellamente allora facciamo un po' qua così tipo uno qua uno qua uno qua uno non ci riuscirò mai a costruirli tutti ma vabbè ok ci facciamo un po' di vasetti qui per coltivare ma perché non me lo metti il vasetto ok vabbè non sono proprio drittissimi dai facciamone otto ma che ci frega tac tac ok ci facciamo anche sti vasetti qua perché in pratica allora cosa che serve asse eh ma l'asse qui capite bene che è un po' un problema capite che l'asse è un problema qua vabbè vabbè cioè intanto me le prendo a fare qualcuno riesco a costruirla partiamo dall'ultimo aggiungi i materiali per favore le assi vabbè e ci stanno ok ma i chiodi sono quelli il problema i chiodi perché il chiodo richiede la pietra cosa abbiamo fatto che il lingotto è di rame per me può anche stare lì il lingotto di rame capite bene che qui c'è un lingotto di ferro e questo è una cosa buona e giusta e qui invece io dovrei accendere assolutamente no manca il carburante dentro che è palle eh ci andiamo a fare un po' di carburante per la si 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 ho capito cioè io potrei anche andare in giro random a vedere se trovo della frutta eh però questo lavoro è da fare c'è anche la resistenza al sole che capisco se sia veramente così fondamentale oppure no ma noi adesso andiamo un attimino dentro non posso saltare ah no è giusto c'ho i tronchi ok qua facciamo distruggi raccogli scusa raccogliamo sta roba voilà che questi qua sono buoni per il fire tac e vai e vai ok prendiamoci anche un po' di bastoncini questi qua li mettiamo giù questo lo puoi anche mettere giù qua lo puoi mettere qua dentro puoi accenderlo adesso yes questi li raccogliamo un attimo ragazzi li spostiamo da qua e vabbè mal che vada li possiamo anche mettere qui a fare tavole ok poi questi bastoni ma andremo a vedere che cacchi qua c'è una cetta di pietra non so che condizione è eh ma l'avevo lasciata lì quindi probabilmente ah scusa hai ragione e si qua ci sono sempre questi cacchi di frammenti mettiamoli un attimo qui eh anche la pelle vedete la pelle mi sta occupando un sacco di posto per niente sta pelle l'avevo messa qua eh la pelle qua dove c'è scritto varie non so se ne sta ancora allora andiamo a vedere anche i vestiti porcaccia miseria perché allora a sto punto visto che ci hanno messo sta resistenza al sole ai vestiti ci saranno sicuramente quindi mh armature e vestiti vedete che ci sono si però serve la stoffa eh questo si fa con la fibra vegetale e la piuma però un cappotto invernale mamma mia stiamo scemi fibra vegetale e piuma invece questo è pantaloni da neve e cappello meno 5 calore possiamo farci anche un cappello l'armatura gli stivali ecco il Kevlar buongiorno il cappello secondo me si può fare sul banco di lavoro servono solo 8 fibre di vegetale solo 8 fibre vegetali allora vediamo un po' se riusciamo a mettere queste fibre vegetali solo 8 giusto dividi per 1 dividi per 1 così almeno non ci facciamo il cappellino eccolo qua l'ha fatto scusi ah si cappello ok me l'ha attrezzato va bene ok ma ha una durata anche penso di si ma si vedi che è verde vabbè almeno cappello così almeno ci andiamo in giro ma io basta ammazzare sti piccioni raga basta gabbiano vieni qua gabbiano dai vabbè solo per voi lo faccio però io non volevo ucciderlo sto piccione gabbiano e fermo gabbiano fermo si muove in un modo ambiguo gabbiano vedete va giù no ammazza però il gabbiano avete visto mi ha fottuto la freccia un altro tronco va bene si si ho capito che stiamo messi male allora mettili giù questi qua e vorrei mettere vediamo se riusciamo a fare eh com'è che si facevano i chiodi raga merda allora intanto una cosa alla volta il cappellino ce lo siamo fatti il i chiodi 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 questa cosa cos'è una punta di lancia eccolo qua lingotto di ferro per 5 mazza ho capito come ne fa 50 ma non c'è una via di mezzo ho lingotto di ferro per 1 ok per 1 eccolo qua eccolo qua perché non me lo fai questo qua cos'è di ferro ah oh ciccio io non è che sto qua a far ballare la scimmia no se tu mi dici che qui scusa che qua mi servono un lingotto di ferro per fare 50 ah perché devo farlo solo in cui ne sono un pirla io giustamente allora fai lì qua ah ok adesso ci siamo perfetto bene andiamo a fare costruire questo intanto eh vabbè ma ne servono 8 di stichiodi ma quanti cavolo oh bene 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 abbiamo qualche seme da piantare in inventario diretto assolutamente no ragazzi proviamo a piantare proviamo a piantare qui dei semi di cetriolo io dico che i semi di cetriolo potrebbero fare la differenza non so come cacchio fare ad annaffia queste cose ma pian piano penso le scopriremo se io pianto il seme qua ok aggiungi acqua vabbè allora l'acqua posso aggiungerla così acqua pulita ammazza ok eh ma non credo che voglia quella pulita no cioè va bene anche acqua normale perché devo mettergli quella pulita scusa cioè no momento raga posso per favore metterla giù st'acqua posso metterla giù quest'acqua eh non lo so vabbè mettiamola quella pulita che se ne frega spero che tu cresca bene con l'acqua pulita però eh perché secondo me l'acqua andava bene anche questa però secondo me eh sì annaggia eeeh vabbè la mettiamo qua dentro così almeno diventa sporca no no eeeh bevita eh oh raga non so che cacchio farmene allora ah ma non ci da un malus non so se siamo semplicemente stati fortunati o se eh non ci da malus qua chiodo asse chiodo asse vabbè io lo metterei qua i due chiodi che ho puoi mettere uguale assi in modo da costruire sta roba ne facciamo un altro ma non credo che lo facciamo in questi episodi credo che me li farò io questi e stiamo ancora col mal di testa diciamo va bene vabbè però cresce no cresce un po' più velocemente rispetto al solito va bene eh io lingottoni qua purtroppo non ne ho ho del vetro ma che cacchio me ne faccio del vetro è quello il fatto ah un altro lingotto di ferro fantastico mettiamo i sassetti a sciogliere allora visto che ci siamo eh fatti altri chiodi va così almeno ah no allora ce lo facciamo noi sto lo facciamo insieme sì 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 amico ho capito no ma quanto cacchio durano ste cosi durano veramente una che schifo è durano pochissimo fermi tutti ho capito che si fanno con poco ma durano anche poco allora aspetta un attimo che ti lancio una lancia ok molto bene la mia lancia la mia lancia è stata lanciata io non so perché ste lance ragazzi non vabbè e niente ok ne abbiamo fatto un altro io ne pianterei ancora qualcos'altro l'ora no qui cibo dammi un altro seme cos'è questo qua di melone dividi uno ok andiamo a fare una visita alla grotticella della morte allora tac aggiungi seme così intanto ragazzi andiamo a vedere ma è vero l'acqua maledizione dammi sta acqua so come oggi acqua aggiunta ok vabbè un po' di meno perfetto il restante acqua me la vorrei andare a bere ok bevi e qui purtroppo adesso ce la fa avanti e indietro a riempire sta cosa ma vabbè eh resistenza al sole è un po' bassa la vita cala con la resistenza al sole vediamo eh si perché stiamo calando di vita non so se sia il solito zombie vampiro lì che ci ha beccato da 4.000 metri dai basta vattene eh no bo beh mi ha veramente sdrenato l'anima quello o quel coso allora aggiungi acqua e vabbè raga facciamo una roba del genere nel frattempo perché capite bene che qua è un casino allora mangiamoci sta roba perché se no non partiamo più cioè restiamo qua una vita magnalo ole non abbiamo più mal di testa vero invece si questa cosa non è che faccia molto qual è il problema scusa ho mangiato la roba potente oh carboidrati ci stanno adesso e vitamine anche qual è il tuo problema la resistenza al sole è il tuo problema è quello il tuo problema vabbè ma se è una una rottura infinita di di palle cacca dobbiamo anche stare all'ombra ma che stiamo scemi vabbè che giorno sono le 5 di pomeriggio io me ne vado ragazzi provo ad andare verso le grotte della morte e vediamo non mi ricordo più per fare la lancia però aspetta un attimo mi riserva la lancia allora la lancia che poi tra l'altro non riesco a fare quella addosso non capisco perché una lama di pietra 3 bastoni e 5 fibre vegetali che palle allora la pietra mi serve porca c'è la miseria dove è sta pietra dammi qua pietra bastone fibra vegetale ok allora pietra bastone non mi ricordo più la ricetta fermi allora la pietra ci si era detto 3 bastoni e 5 fibre ok allora 3 bastoni e 5 fibre si che poi io basta che tengo pronto shift faccio così dico 4 stiamo a posto no ok e la lama vai hai fatto la lancia perfetto prendila però qual è il tuo problema non hai una lancia prendibile questa no ce l'ha messa la lancia forse ci hanno fatto un'altra vabbè vediamo se l'abbiamo yes perfetto ok la grotta dove cacchio sta la grotta sta qua vediamo se riusciamo a andarci dentro raga stavolta guarda facciamo un'esplorazione potente in sta grotta anche dei tronchi anche dei tronchi sparsi così alla cacchia un bene non ci dovrebbe essere il sole qua dentro oh vabbè ciao infatti non c'è il sole però si vede anche poco ah è labirintica sta sta zona ecco andiamo a vedere un po' di qua ma c'è qualcosa dentro queste grotte ragazzi sono state implementate ma non credo che maledizione e poi uno sicuramente voi direte Leon sei andato qua dentro ma ci rimani perché ti perdi e infatti e lo so che mi perdo ah là c'è vedete no credo che fosse una figura umana penso a rocce bene qua forse ci devo venire con un caschetto o un qualcosa che ne so ecco questo è un sasso oppure posso no gacchio si è rotto ah credo che si possa minare si aspetta che mi attrezzo a una cosa di abbastanza forte si credo che quelle si possono raccogliere no il problema è che il piccone non ho controllato la durabilità del piccone quindi vabbè non si vede assolutamente niente voi forse vedete un po' di più perché la registrazione è un po' aumentata la luminosità ma vedo decisamente poco ma mia ma sono infinite cioè cacchio vado cioè se io vado sempre avanti adesso ma dove cacchio vado non è che fa ci sono delle grotte che fanno tipo un loop se tu vai avanti ma sei sempre lì spero di no guarda che riprendiamo un po' il vigore fermiamoci ecco però non c'è niente io non sto non sto vedendo niente perché non vedo niente è scontato però si vedi ci sono sti sassi e quello va bene se hai i sassi vabbè però cioè non credo neanche di poter fare il piccone a questo bastone ci vuole la lama e noi la lama non ce l'abbiamo perché pietre non ne abbiamo ma infatti se trovessi un sasso qua per terra sarebbe anche utile ma non lo trovo oh ragazzi cioè abbiamo visto che praticamente si viene qua probabilmente per minare basta con queste grotticelle vedete qualche sassetto c'è non so che cosa diano sti sassi mo son curioso peccato per aver perso quel cacchio di piccone ma se trovassi una roccetta qua per terra me lo rifarei capite che potrei anche rifarmelo il piccone ma una roccetta qua per terra non già sta vabbè cosa positiva è che la resistenza al sole cala oddio io qua mi perdo però porca io non io mi sono già perso sento un lupo io mi sono già perso venti volte dammi la roccia per terra che voglio provare a scavare no è certo che potevano fare in modo di metterci delle rocce a terra no cioè sì le rocce ci sono ma quelle piccole non so che cacchio ci veniamo a fare qua ma sicuramente dai qualcosa ci verremo a fare ci so che sto correndo come un pazzo non si dovrebbe fare ma eh raga che devo e il tempo di registrazione è questo quindi devo per forza correre se no facciamo come the long dark che ogni 5x2 devi tagliare il video capite che poi sarà tutto un taglio allora secondo me da qua siamo venuti che potrebbe essere l'uscita qua perché ho visto che non eh sì infatti mamma mia incredibile eh sì ho capito lupo però porcaccia la miseria tu mi dovresti dare la carne adesso e non compenetrarti e glitcharti nella fottutissima roccia di merda lupo ma porca che sono facili da fare anche ste frecce capite vai a cagare lupo sì 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 vabbè il sole è di bello che non c'è più allora cosa cazzarola devo fare per trovare un fottutissimo sasso è spawnato davanti a me grande pallona magari ci danno dei materiali strani quelli là che ne so io allora si fa così aspetta eh momento eh capito uno uno due ok due fibre un bastone vabbè un bastone una lama e due fibre piccone ok sì 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 metti il piccone grazie ok proviamo a tornare verso la la grotta che è qua scusatemi a parte che ce l'ho vicino a casa sta grotta ok andiamo a vedere ragazzi di picconare qualche pietruzza a vedere se ci danno dei materiali strani perché guarda come si abbassa l'omunosità quando cacchio entri qua ho scopiazzato da the forest no eccolo là vediamo allora secondo me è solo pietra che ci dai? argilla piombo piombo ok ci da del piombo quindi il piombo non l'avevamo ancora trovato quindi qua ci da del piombo vediamo se sono tutte più o meno uguali no questo è da ferro piombo piombo eh però c'è danno dei materiali abbastanza utili perché li danno già grossi c'è già così vedete questi qua li scioglie e ti fa già direttamente il lingotto e quindi sì dovrebbe essere una buona idea passarci un po' di tempo anche se si vede relativamente poco però forse sì potrebbe essere un'idea carina eccolo forse questa è un'altra questa addirittura è attaccata alla roccia ed è rossa e secondo me questa cos'è? ferro puro piombo argilla no probabilmente cacchio qua dentro ragazzi dobbiamo venireci con una torcia con una luce con qualcosa perché tra l'altro credo che fuori stia facendo anche buio e la luminosità si ripercuote dentro sta cacchio di grotta perché non ha senso altrimenti guardate dammi qualcosa ferro ferro mi interessa il ferro per il momento niente piombo sasso piccolo ah quindi è random perché sasso piccolo cioè è un po' un drop da culo scusatemi cioè però è vero niente è un altro sasso piccolo vero ah cioè addirittura solo sasso piccolo ah no ok me l'ha dato il minerale eccolo qua vabbè non si vede raga che vi devo dire io sto provando ad andare in profondità ma sono tre rocce da rompere qua ce n'è una no no ragazzi devo stare indietro perché non vedo più niente rischio di di stare qua al buio perché credo che fuori stia facendo ancora più buio e no io qua rischio veramente di cioè di non vedere neanche dove è il muro sostanzialmente niente piombo vabbè abbiamo trovato un sacco di piombo eh butto via questi sassi anche se capisco bene che ci servono ma noi dobbiamo essere leggeri per andare avanti quindi proviamo proviamo a tornare indietro e vediamo ah allora sono passato adesso il lago c'è sto cacchi di pozza d'acqua e merda pozza d'acqua siamo andati cazzo non mi ricordo se è qua o qua adesso eeeh vediamo qua pozza d'acqua ma speriamo di averci preso no non posso neanche romperlo perché sto pesante ma credo dove è sbagliato vero? si vabbè ci rivediamo all'uscita ok ragazzi rieccoci qua all'uscita sono riuscito ad andare fuori da sto posto però infatti è notte fuori vedete per quello che non si vede niente neanche dentro eeeh però dicevo sono stato praticamente morso anzi punto da uno scorpione mentre uscivo eeeh alla fine dello scorpione sono riuscito a ucciderlo però penso che non posso ignorare sta ferita è solo che mi richiede la benda medicata per forza io ho solo quella vabbè ragazzi usiamola che vedevo di eeeh di qua vero eccolo lì la casa va bene allora diciamo che ma sei deficiente ma sono due centimetri vabbè diciamo ragazzi che io vi saluto qua per il momento su DeInfected abbiamo visto come fare un po' di vasetti qua di coltivazioni abbiamo visto che queste cose funzionano almeno per un po' eeeh tengono alla larga questi specie di di nemici insomma di zombie vampiro e niente io devo assolutamente adesso steccare sta roba quindi grazie a tutti ragazzi per essere stati con me ci vediamo alla prossima ricordatevi di lasciare il like a voi non costa assolutamente mezzo centesimo mentre a me cambia la qualità della vita niente va raga grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti